Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la maglia da trasferta del Manchester City per la stagione 21-22 nella versione fan, quella cioè dedicata ai tifosi. La maglia è bianca con le rifiniture di questo colore che è un blu tendente al verde, molto elegante. Lo stemma e il main sponsor sono sfumati dal rosa al violetto all'azzurro. Lo stemma del club e il logo della puma sono ricamati. Il main sponsor sul petto e quello sulla manica sono invece termosaldati. La trama della maglia è al tempo stesso, semplice ed elegante. Il puma sulla spalla è ricamato, mentre lo sponsor è termosaldato. E con la V sul retro appare la scritta Citizen Giving, un'associazione benefica sostenuta dalla squadra. Siete lì? Cosa ne pensate? Secondo me questa maglia nella sua semplicità e nella sua eleganza è veramente molto bella. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Poi mi direte voi cosa ne pensate. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità e le misure. Prima di lasciarvi, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per essere aggiornati ai prossimi appuntamenti. Ciao, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia small della versione fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg.